Comunque da donna sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura. Cioè vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile, vedo solo persone che veramente potrebbero essere potenziali scippatori, stupratori, che mi fissano, mi fanno proprio, sapete quello sguardo, quello fastidioso? Quindi devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta, nascondere il telefono in tasca, non posso essere libera neanche di portare giù il cane. Bella Milano. Poi per quello che costa, bella e sicura? No mai, pensiamo ad aumentare l'aria C, aumentare le strisce pedonali. Ovviamente sono un po' stufa, cioè non è possibile avere paura. Io da donna ho paura, ogni giorno della mia vita io ho paura a uscire da sola.